Cominciamo dall'ariete. I problemi non mancano, ma quando tutti vedono nero, voi con la vostra forza di volontà e il vostro coraggio potete riportare buon umore e serenità. Oggi grazie alle stelle avrete modo anche di mettere in campo questa prerogativa. Toro, gli astri vi rendono agitati e nervosi, vi spingono ad assumere atteggiamenti belligeranti nei confronti di chiunque, attenti a non proiettare sugli altri proprio quei difetti che non riuscite a cancellare in voi. Gemelli, giornata proficua sul piano economico e professionale, nonostante il giorno festivo e la voglia di relax. Le idee e i progetti sono infatti numerosi, selezionate i più urgenti e rimandate gli altri a più avanti. Cancro, giornata dinamica, cogliete le lusinghe, programmando tutto ciò che per voi è meglio e accettate utili trasferte se è il caso. L'amore gode di buone armonie, di toni caldi e sensuali. Leone, difficile oggi valutare le cose con senso critico e profondità. Contrarietà planetarie lasciano intravedere impedimenti nel mantenere l'obiettività nel giudicare una determinata questione, soprattutto in amore. Vergine, probabilmente sentirete il desiderio di stare a contatto con la natura. Programmate una gita in montagna o magari un pranzo in agriturismo, così da soddisfare anche i piaceri del palato. Bilancia, dovrete prestare maggiore attenzione a rapporti di amicizia che potrebbero manifestare qualche piccola tensione. L'amore invece viaggia a gonfie vele, sospinto da un vento di romanticismo, dolcezza e grande sensualità. Scorpione, state recuperando energie e posizioni su molti fronti. Potete dare prova di saperci veramente fare. È vero che i ritmi sono sostenuti e alcune questioni non sono ancora chiare. Sagittario, la forma lascia desiderare. È il momento di mettersi a fare un po' di movimento. Le stelle vi sostengono e grazie al loro aiuto il periodo è perfetto per dedicarsi allo sport e al fitness. Approfittatene. Capricorno, avete ritrovato l'ottimismo. Godetevi la giornata festiva. Si prevedono cambiamenti positivi e avete delle buone basi per realizzare in tutta tranquillità i progetti a cui tenete, a cominciare dal settore affettivo. Acquario, ricordate che l'apertura alle opinioni altrui è forse la qualità che gli altri apprezzano di più in voi. Non sbarritela. Secondo le stelle avete un obiettivo ben preciso in questo momento, quello di sfuggire allo stress. Pesci, le stelle di oggi vi faranno tornare la fiducia e la voglia di vivere. Sarete infatti allegri e disponibili a socializzare ed incontrare gente. Ci saranno contatti e nuove esperienze.